Il treno metropolitano proveniente da Pozzuoli-Solfatara e diretto a Napoli-San Giovanni Barra arriva e parte dal binario 4, ferma in tutte le stazioni. Il treno metropolitano proveniente da Salerno e diretto a Napoli-Campi-Flegrei arriva e parte dal binario 3, ferma in tutte le stazioni. Attenzione, treno in arrivo al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in arrivo al binario 4, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, per motivi di sicurezza la stazione è sorvegliata da telecamere, non lasciate incostruiti i vostri bagagli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.